Ciao scimmia! Ciao Sir scimmia! Allora, noi stiamo pronti il nazionale di calcio della...sola...slovacchia. Davvero? Certo. Noi andiamo a pagare soldi di giocare la palla. Ah, sei sicuro? Certo. Certo. Bisogna andare ai nazionali di calcio slovacchia. Yeeey! Andiamo! Ehm, scimmia. Bisogna andare ai nazionali di calcio della slovacchia. Certo, bisogna giocare la palla. Eh sì. Un cane, un cane! Ma che cosa sta succedendo? Eh, un cane! Sta arrivando un cane! Ma non ti fa niente! Ok! Mh... 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 Avanti! Mh... 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 Atento che fai! Sto attento Scimmia, stai bene? Sì, sto benissimo Mi sono scivolato dell'acqua Scimmia, dove sei scivolato? Mi sono scivolato e poi dell'acqua è schiacciata il sedere la scimmia Oddio, devi stare attento dell'acqua e poi ti scivoli Certo Dai, andiamo Mamma mia, che male Voglio vederlo? Ah, bisogna andare all'ospedale Ah Is this old man? Old man? What, you think you're not gonna get old, you little bastard? No, 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 no Grazie.